in questo periodo si sa non sappiamo mai che la camma cucina visto gli anni forti che cucuzieli me l'ho già fatta all'insalata con il salmono prima di tutto ho preso i cucuzieli li ho tagliati fino a fine e li ho arrostuti una bella surata però mi metto fuori a bacconi il sole non c'è la ragna abbronzatura quando li ho fatti tutti ho messo in una bella zuppiera ho rivagato il salmono affomigliato tagliato arte povera con le mani come tocco da gran gourmet un po' di cipolluzza tagliata fina fina poi ho preso il mio solito bucaccello non quelli che fate voi questi di vetro ho sfregiato piccolino piccolino mento e produsino poi il zuco e la scorza del limone il classico bucaccello sempre quello che fate voi poi voglio sale e un'andecchia di pepe tappate il tappetto esbacchiate forte forte che quello all'intrasatto si emoziona esce una bella crema da rivagare sull'insalata poi fate una bella miscata fresca, veloce e saporita e come sembra e non vi scordate buon appetito in questo periodo si sa non sappiamo mai che la camma cucina hai visto gli anni forti che cucucielli me l'ha già fatta all'insalata con il sammono prima di tutto ho preso i cucucielli li ho tagliati fino a fine e li ho arrustuti una bella surata però mi metto fuori a baccono il sole non c'è aragna bronzatura quando li ho fatti tutti ho messo in una bella zuppiera la rivagata di salmone affomigliato affomigliato arte poveri con la mano come tocco da gran gourmet un po' di cipolluzza tagliata fina fina poi ho preso il mio solito bucaccello sono quelli che fate voi questi di vetro ho sfreggiato piccolino piccolino mente e prudusino poi il zuco e la scorza del limone il classico bucaccello sempre quelli che fate voi poi voglio sale e un'andecchia di pepe tappate il tappetto esbacchiate forte forte che quello all'intrasatto si emoziona esce una bella crema da rivagare sull'anzalata poi fate una bella miscata fresca, veloce e saporita e come sembra e non vi scordate buon appetito